ciao a tutti e bentornati allora facciamo un brevissimo recap prima di passare a quelli che sono gli aggiornamenti del caso allora la dama nera si appropria di diverse immagini credendole di proprietà di andy sims e le piazza in un suo contenuto ma a seguito di tale pubblicazione viene invitata a rimuovere le immagini incriminate da quel momento in poi l'inferno perché se in prima istanza la storianese si era mossa coscientemente rimuovendo tali immagini poco dopo ci ha ripensato ed ha iniziato a rivendicare i suoi diritti da creator state pensando che sia già abbastanza così sì e vi sbagliate perché oltre questo l'intervento del culogero ha peggiorato ulteriormente le cose perché credendo di arrecare danno di fare dispetto ha preso a scaricare e ricondividere i video dei paperi che vista la situazione hanno iniziato a segnalare video per video di quelli ricaricati dal tecnico fino ad ottenere la chiusura del canale il bidello a quel punto i due sorianesi anziché retrocedere hanno inviato segnalazioni a raffica per un totale di 11 strike complessivi ragion per cui youtube questa discutibile piattaforma decide di chiudere il canale dei paperi e questo rappresenta il primo aggiornamento sono poi partite una serie di live di festeggiamenti e auto celebrazione dove il tecnico rivendicava la paternità degli strike nonché ulteriori avvertimenti e della stessa linea è anche il post lasciato dalla dama nella sua community nel quale scrive cari ex componenti dell'ex canale della quinta essenza del papero se dovesse succedere qualcosa al mio canale vi ritengo tutte e cinque responsabili e per dimostrare che non scherzo vi dimostro che sui vostri nomi e cognomi la mia non è una minaccia ma un dato di fatto beh quello che lei cerca di far apparire come il risultato di un'attenta ricerca magari anche a seguito della denuncia che lei dice d'aver sporto e nei confronti di queste cinque persone altro non è che la lettura dei loro canali ebbene sì perché quattro di queste cinque persone hanno il canale e con il loro nome e cognome reali tipo come chiara d'alessandro e davide norimberti che hanno impostato il nick del canale con i loro dati reali ma proseguiamo con il post in questione di cui lei fa allora la lista di queste cinque persone numero 1 alessio b numero 2 sabrina m numero 3 alessandra m numero 4 carla m numero 5 canale discolo 2 tra parentesi ilaria e poi aggiunge ora fate bobis e per concludere il tutto cosa fa aggiunge un post scriptum in cui scrive vi conviene mollarmi poi fate voi a voi la scelta io intanto continuo per la mia strada sotto questo post in community due commenti uno di paolo filippi che scrive hanno riaperto un altro canale a cui la dama risponde basta che non rompono le palle a me possono fare ciò che vogliono poi una certa ludi scrive anna i paperi hanno nuovamente parlato male di voi e dove nell'ultima live di sandro linterista non si sono stancati di attaccarvi il post in questione la pone in una posizione del tipo io posso e voi no perché perché se succede qualcosa al mio canale scattano ulteriori denunce fino ad arrivare poi ieri notte con la pubblicazione di una mini live dal titolo ma vi credete furbi che inizia con un fuori onda dove la dama dice a culogero aperta poi parli tu e poi parte col col saluto iniziale buonasera a tutti eccetera eccetera continuando dicendo che lei non è solita aprire live a mezzanotte ma siccome sta ricevendo una fracassata di segnalazioni per violazione della privacy su video dove lei riprende tipo casa sua culogero la sua auto ritenendo le azioni sconsiderate attribuendole assolutamente ai paperi poi un'altra cosa che rivendica è il fatto di aver ricevuto delle minacce ma né nei commenti né nel post in community che fecero i paperi si ravvisa nulla di simile pure perché se fosse stato così come dice lei lei sicuramente avrebbe piazzato gli screen di tali minacce nella sua community e ora vi sembra abbastanza sì e vi sbagliate di nuovo perché perché oltre questo lei annuncia di essere già stata in caserma e di aver denunciato i cinque membri dei paperi dato che ha già quasi tutti i nomi e cognomi quasi di tutti tranne uno quello di canale discolo che però è stato denunciato in tal senso e c'è come canale discolo quindi cara preparati all'ergassolo i capi di imputazione sono minacce a stampo mafioso e minacce di morte e inoltre aggiunge che se pensano di farle un torto facendole cadere il canale beh si sbagliano perché lei con o senza canale campa lo stesso perché poi riflettendoci bene nessuno può peggiorare quella che è la sua situazione attuale cioè come per dire abbiamo già raschiato abbondantemente il fondo del barile più di così e dato che siamo in argomento denunce pare che una ne sia partita pure per il moderatore fantasma di cui ha scoperto l'identità la breve live continua con un'auto celebrazione della sua onestà sincerità legalità ok ve la risparmio poi non dite che non vi voglio bene e passiamo rapidamente a quello che è l'ultimo anzi l'ultimissimo aggiornamento i paperi nel frattempo che youtube effettui dovuti controlli in base ai ricorsi inviati hanno aperto un nuovo canale dal quale riprenderanno a fare live video e tutto ciò che più gli piace non monetizzavano prima e non monetizzano adesso ma dopo tutto il guadagno da youtube non è mai stata una una loro priorità dato che hanno sempre usato il canale per per condividere dei racconti e fare live di discussione e non di dissing ecco perché poi la scelta di impostare i loro canali con i loro reali nome e cognome dato che dall'inizio non era ravvisabile in loro alcun intento malevolo cioè vi pare che uno che vuole aprire un canale per fare dissing o per rompere le scatole a destra e a manca va a mettere il proprio nome e cognome ma non credo proprio questo per dire che riprenderanno il loro percorso youtubico esattamente come era prima ora per chi volesse iscriversi al loro nuovo canale posterò nella mia community il link diretto vi basterà semplicemente cliccarci su per il resto che dire beh questa vicenda ci ha mostrato ancora una volta quanto può essere misero l'essere umano capace delle più infime azioni e ritenerle dei successi Alberto Sordi si starà rivoltando nella tomba e adesso da un'eccellenza del cinema italiano passiamo ad un'eccellenza di youtube e cioè Davide piaciuto l'aggancio? Allora in tutto questo caos abbiamo perso di vista i due vepponi milanesi che in perterriti si producono in live vlog vlog flash video spesa train hall e mukbang e quello che andiamo a riassumere ora è proprio l'ultimo mukbang proposto da Davide e chi è Davide? E' l'uomo che non deve chiedere mai perché tanto anche se chiede non glielo danno bene verranno consumati nel corso di questo mukbang due punti tre focaccine pugliesi un trancio di focaccia cotto e formaggio un pezzo di valdostana una porzione di couscous con pesce e da bere chiare fresche e dolci acque 13 minuti di bon ton a tavola che non potete assolutamente perdervi bene si parte con la focaccia farcita con cotto e formaggio consumata direttamente dall'incarto senza piatto né bicchiere di questa focaccia ne elogia sia la morbidezza che la gustosa farcitura sebbene poi non è riuscito ad identificarne il formaggio contenuto pochi bocconi e si passa subito alla seconda portata e cioè il couscous di pesce ovviamente preriscaldato nel microonde e anche questo consumato direttamente dalla vaschetta che lo conteneva Davide lo trova costoso come prodotto ma a sto giro ha beccato una porzione ricca di pesce e quindi il gioco vale la candela non vi allontanate troppo perché anche qui siamo inesorabilmente in dirittura di arrivo e si passa alla valdostana sempre consumata nel suo incarto originale e lui è davvero affamatissimo e ad un certo punto forse a causa delle tante calorie ingerite parte con un monologo assurdo dove dice pensate un po quello che volete dite quello che volete tanto i vostri cervelli sono vuoti cioè così a gratis e per completare il tutto mangia una delle tre focaccine pugliesi verso totalmente nei suoi pensieri finito l'ultimo boccone con la stessa salvietta pulisce naso bocca e ascelle bene e queste erano le novità per quanto riguarda il canale di super Davide mentre dal canale dell'ostrica selvaggia ho detto l'ostrica no volevo dire l'orchidea selvaggia della barona arriva un vlog fresh e flash dal titolo allarmante e cioè è successo un casino siete curiosi di scoprire cosa è capitato alla barona no e chi se ne frega tanto ve lo racconto lo stesso allora pare che nel corso della mattinata sia mancata più volte la corrente elettrica ed è tornata circa dopo un'ora provocando fiumi di sudore perché perché senza la corrente elettrica non funzionava il mini condizionatore pinguino detto ciò parte una recensione negativa per la piscina acquatica di milano che a suo dire sporca e chiede consiglio su eventuali alternative perché hanno in programma breve di ripartire per per una nuova vacanza ma nel frattempo che arriva il giorno della partenza vogliono andare ad esibire in piscina i fisici scolpiti quindi raccontato il disagio della corrente elettrica rilasciato il feedback negativo per la piscina acquatica di milano ci saluta avvisando che a breve ci sarà una live allora qui urge aprire una doverosa parentesi perché io capisco il voler portare delle novità ma questa cosa dei blog flash è proprio una cagata senza sì e senza ma ah dimenticavo di segnalarvi che il nostro buon davide è arrivato a quota 30.000 iscritti e dopo questa informazione che sicuramente allieterà quelle che sono le vostre tristi giornate adesso a me non resta che salutarvi augurarvi buona continuazione di giornata invitarvi a seguire quello che sarà il mio prossimo riassuntone ma nel frattempo che succede tutto questo un bacio a tutti da gossi quindi fate dei vobbis